Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Fione e ci troviamo sempre al Mobile World Congress 2017 qui a Barcellona. In questo momento mi trovo allo stand di HTC perché sto mettendo le mie zampacce su HTC U Ultra, uno smartphone fighissimo dallo schermo da 5.7 pollici è immenso, la sua particolarità però è che ha un doppio schermo vicino alla fotocamera infatti, avete uno schermino piccolissimo all'interno del quale potete inserire i contatti preferiti oppure le app che utilizzate più spesso. In questo modo facciamo un esempio, entriamo sul calendario, state guardando delle cose per poter magari rientrare direttamente su Chrome, non dovete tornare indietro per forza ma potete schiacciare direttamente sul mini schermo e passare direttamente da un'app all'altra, una bellissima comodità giusto? Per la prima volta nel mondo degli smartphone inoltre viene inserita questa feature che si chiama Liquid Surface, in poche parole la back cover ma anche tutto il resto del telefono sembra talmente fluida da sembrare quasi liquida, inoltre i colori sono spettacolari, questo è un rosa cangiante degno da princess ovviamente ma ho visto anche degli altri blu e neri che sono spettacolari, peccato solo per le impronte che si vedono e non poco, guardate qua, non so se si vede, si vede l'improntazione? No? Allora facciamo così per farla vedere, vi fidate di me? Sì dai, vi fidate! Un'altra caratteristica particolare di questo HTC U Ultra è la fotocamera perché sia quella posteriore che quella anteriore è da 16 megapixel per diventare così bellissime nei vostri selfie come a mia. Altra feature molto interessante è il Usonic Audio, in poche parole le cuffie che sono comprese all'interno di questo HTC U Ultra hanno una tecnologia molto particolare che farà rimbalzare il suono all'interno del vostro padiglione auricolare e lo modulerà in base alla sua forma. Questo vi permetterà di avere un audio spettacolare e ritagliato su di voi. Ritagliato su di voi si è capito? Vabbè ci è piaciuto! Dallo stand di HTC è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!